I sei sensi. Allora vi faccio un sondaggio. Questo è un sondaggio che è stato fatto veramente, poi vi dico i risultati. Immaginiamo che da oggi voi siate obbligati a rinunciare a una cosa, a vostra scelta, tra il senso dell'olfatto o la connessione. Perdete il senso dell'olfatto o perdete la possibilità di andare su Facebook, di andare su YouTube a vedere i video di Umberto Garimberti, so che lo fate tutti, anche voi, non sono solo io, di messaggiare su WhatsApp, prendete la possibilità di andare a fare i giochi online sull'Xbox. Proviamo ad alzare le mani. Chi spegnerebbe l'olfatto e terrebbe la connessione sulle mani? Siate sinceri, vorrei vedervi, dopo due giorni, no ho sbagliato, va bene, ok. Non me ne faccio niente il profumo di una rosa. Chi invece spegnerebbe la connessione online, giusto per vedere che, d'accordo, va bene, anche su. Allora, questo è un sondaggio che è stato fatto in America, quindi una cultura diversa, se vogliamo da noi, che però ci delinea un trend. Il 58% degli appartenenti alla generazione Y, ossia i nati tra gli 80 e i 2000, rinuncerebbe all'olfatto invece che al cellulare. In questo modo, in realtà, tu perdi anche il gusto, perché se provi a mangiare una banana con il naso tappato, non senti il sapore. Quando siete raffreddati, perdete i sapori, no? Quindi in realtà ne perdi due con un colpo solo. Però, a prescindere dalle considerazioni morali, è giusto, è sbagliato, il punto è questo, i sei sensi. Un po' come per il non vedente il bastone è un'estensione del proprio corpo, è a tutti gli effetti integrato nei propri cinque sensi, oramai stiamo andando in quella direzione. I nativi digitali hanno la connessione, hanno le nuove tecnologie integrate all'interno dei loro cinque sensi, tanto che sono più importanti del senso dell'olfatto, per molti di loro, non per tutti. Io ho lavorato per diversi anni, tra l'altro in alcune scuole medie nell'interland milanese, a fare media education, a insegnare i ragazzi a usare le nuove tecnologie, poi ho scoperto che erano più loro ad aver insegnato a me che viceversa, e se tu gli chiedevi questa cosa, loro rispondevano coerentemente con questi numeri. Se poi gli dicevi, rinunceresti alla vista o alla connessione online, si tenono la vista perché dicono prof, se non c'ho la vista cosa ci sto a fare su internet? Hai ragione, scusami. Quindi internet, la connessione, le nuove tecnologie, saranno sempre più inserite alla stregua dei cinque sensi. E allora quali sono i confini della mente? Questo è un punto aperto interessante. Quali sono i nuovi confini della mente? Non ho risposte, io qui faccio più domande che altro, vi avviso.